Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È tornato a farsi vivo lo sceriffo partenopeo De Luca che assume come sempre una posizione un poco controcorrente rispetto a quelle egemoniche, in questo caso lo fa prendendo posizione contro la carne coltivata. Si dice contrario alla carne coltivata e ne approfitta anche per tirare una bordata contro Beppe Grillo dicendo che non si stupirebbe poi se Beppe Grillo, uno dei teorici della carne coltivata, venisse poi trovato a mangiare una bella bistecca classica al ristorante, così più o meno ha detto De Luca con una evidente ironia. Tuttavia non so se Grillo mangi volentieri la carne tradizionale oppure no, forse per via del cognome dovremmo aspettarcelo più propriamente a mangiare i grilli, le nuove delizie del piatto unico gastronomicamente corretto. In ogni caso è interessante che anche De Luca si sia espresso contro la carne sintetica, uno in più nel nostro fronte, io lo dico sempre, non sono contrario alla carne sintetica per ragioni scientifiche, ma per ragioni culturali e identitarie. La carne fa parte della nostra cultura, della nostra storia, della nostra civiltà ed è una pura follia se ci pensate che oggi la scienza, sostituendo la religione, ci dica cosa possiamo e cosa non possiamo mangiare e di più pretenda di fare tabula rasa della nostra identità a tavola, come se appunto la scienza potesse cancellare l'imperio, la tradizione, la storia e la cultura dei popoli. Questo che con la scienza ha poco a che vedere, essendo semmai una forma di scientismo dogmatico e quasi religioso, è lo spirito del nostro tempo. Ecco perché sostanzialmente io sono critico verso la carne sintetica e preferisco continuare a nutrirmi della carne tradizionale, quella che ha alimentato l'intera storia del nostro occidente.